22 appuntamenti da non perdere, quelli della 37esima stagione concertistica dell'istituzione sinfonica abruzzese. 22 concerti, le cui note attraverseranno l'intero Abruzzo e oltre, nello spirito con il quale ormai più di mezzo secolo fa Nino Carloni pose le basi per la nascita di un centro della musica che con le sue produzioni avrebbe dovuto contaminare anche le regioni limitrofe. L'istituzione sinfonica abruzzese, grazie anche al supporto dell'assessorato alle politiche culturali della regione dell'assessore De Fanis, porterà il medesimo prodotto culturale tanto nei circuiti ufficiali della cultura, quella con la C maiuscola, quanto nei centri anche medio-piccoli della nostra regione, superando un'antica discriminazione che voleva soltanto nei centri più grandi i concerti di un certo peso. Noi portiamo lo stesso prodotto culturale tanto nei grandi quanto nei piccoli centri della nostra regione. È importantissimo perché l'orchestra sinfonica abruzzese è tale. Io ho avuto modo di constatare che quest'estate quest'orchestra nel suo pieno delle forze, 50, 55 e più elementi, ha portato musica anche in paesi molto piccoli. Questo è il compito che deve avere un'orchestra regionale, far conoscere la musica non solo ai centri grandi ma anche più piccoli. Novità di quest'anno la SinfoniCard, una opportunità per abbinare alla musica il Cinema e lo Sport, offrendo la possibilità agli abbonati di ottenere una riduzione sui costi del biglietto del Cinema Movieplex per le partite dell'Aquila Rugby.